Quarantana obbligatoria all'arrivo in Italia per i cittadini che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria, paesi che preoccupano particolarmente per il rapido aumento dei casi di Covid-19. È la nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, come ha annunciato con un post su Facebook. La stessa misura è già in vigore per tutti i paesi extra Unione Europea ed extra Schengen ed è la prima volta dalla riapertura delle frontiere che viene applicata una norma del genere a due paesi europei. Il virus non è sconfitto e continua a circolare, ricorda Speranza, per questo occorre ancora prudenza e attenzione. I dati delle ultime 24 ore sono in calo rispetto a ieri, 252 nuovi positivi in Italia, 5 i decessi e 350 i guariti. Ieri erano stati rispettivamente 306 e 10 i decessi. Gli attuali positivi sono 198.192.